avevamo un programma ma comunque insomma ovviamente poter andare a casa e staccare un po' la spina è diverso soprattutto per chi magari è un po' distante da casa e non ha la possibilità di tornare durante l'anno perciò insomma ricaricate le pile comunque tenuti in allenamento e carichi per questa seconda parte di stagione ma parlare di questo risultato non ha molto senso comunque vabbè il Benevento ha meritato di vincere c'è un po' di rammarico perché comunque noi abbiamo avuto molte occasioni che non abbiamo sfruttato mentre loro ovviamente se sono lì in cima un merito ce l'hanno ossia aver sfruttato tutte le occasioni che capitavano se analizziamo le singole partite ci sono state ovviamente alcune partite che abbiamo completamente sbagliato e questa sicuramente è una colpa nostra mentre ce ne sono state molte altre che abbiamo approcciato bene abbiamo giocato molto bene e abbiamo raccolto meno di quello che meritavamo tutto sommato insomma siamo abbastanza soddisfatti però ovviamente guardiamo a migliorarci e si può fare molto meglio secondo me ancora perciò siamo tutti fiduciosi per questa seconda parte di stagione e ci crediamo insomma a fare molto bene appunto diciamo che quando trovo comunque continuità riesco anche a rendere di più sicuramente infatti penso in queste ultime partite deve aver dato un buon apporto insomma e punto a continuare così a far bene per me e per la squadra assolutamente sarà una partita molto tosta loro non c'entrano niente con la squadra che abbiamo affrontato due volte tra Coppa Italia e partita d'andata insomma sarà tosta noi ci prepariamo al meglio in questi sette o dieci giorni tra virgolette insomma e arriveremo la carichi dobbiamo assolutamente invertire il trend fuori casa in questa seconda parte di stagione ormai insomma siamo dei professionisti e le cose extra campo non ci riguardano ci pensano insomma i nostri agenti e sicuramente direttore, ministro eccetera perciò insomma noi siamo concentrati sul campo e lavorare al meglio e prepararci per la prossima partita grazie 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 grazie